Un cordiale saluto da Andrea Biagioni di Florence Multimedia per gli aggiornamenti sulla viabilità in Toscana. Partiamo dalla FIPILI dove a causa di lavori si registra un chilometro di coda tra Ginestra Fiorentina e La Strassigna in direzione Firenze, rallentamenti invece in direzione Livorno. Sempre a causa di lavori rallentamenti in A15 tra Pontremoli e Berceto in entrambe le direzioni e tra Pontremoli e Aulla in direzione La Spezia. Sul raccordo Sena-Firenza a causa di uno scambio di carreggiata all'altezza dello svincolo di Sandonato rallentamenti tra Tavernell e Sandonato in entrambe le direzioni. Uno sguardo alla viabilità della città di Firenze rallentamenti in via Bolognese all'altezza di Villa Finale a causa di un restringimento di carreggiata con senso unico alternato per lavori in entrambe le direzioni. E per il momento è tutto, Muoversi in Toscana è realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!